Si sono vissuti momenti di tensione questa mattina sotto la sede della regione di Trento dove era in corso un presidio degli attivisti Stop Castellere contro la legge Ammazzaorsi in approvazione oggi. Un attivista, intervenuta durante la discussione del Consiglio contestando duramente il provvedimento, è stata scortata fuori dalle forze dell'ordine. La seduta è quindi stata sospesa e all'esterno del palazzo si sono verificati scontri con le forze dell'ordine vedendo la propria compagna scortata fuori e ne ha seguito un lancio di palle di vernice sulla facciata denunciando la repressione del dissenso che già nella manifestazione del 10 febbraio scorso aveva assunto livelli significativi portando a denunce fogli di via ai danni di alcuni partecipanti. Il DDL, ribattezzato Ammazzaorsi, prevede di uccidere otto orsi l'anno in contrasto al regime di massima protezione previsto per questo animale dalla direttiva Habitat. Questa legge non garantirebbe la sicurezza delle persone, quello che è certo però è che condannerà irrimediabilmente la popolazione ursina all'estinzione. Oltre il 60% degli orsi morti hanno perso la vita a causa dell'uomo.